Noi abbiamo dedicato il 2024 alla donna rurale, abbiamo iniziato l'8 marzo e concluderemo adesso verso la fine di novembre con un incontro con Margherita Asta, con cui sono in contatto, che verrà a parlare della resistenza delle donne rurali nella lotta contro la mafia, le donne rurali del sud. Abbiamo avuto parecchi eventi, parecchi incontri, e ci hanno creato un'idea nell'incontro che abbiamo fatto e una progettualità per continuare a farlo nei prossimi anni, 3-4 eventi magari stagionali che mettono sempre al centro il territorio e la figura della donna che ritorna a vivere, delle giovani che ritornano a vivere magari anche nei piccoli paesi e sviluppano anche attività che hanno ben poco a che fare con l'agricoltura, ma il fatto di aver scelto di essere venuti a vivere in un piccolo paese dell'entroterra fa di loro delle rappresentanti delle giovani donne rurali.